Ed è soggi che è il primo mercoledì di mese il nostro appuntamento con la benedizione dei sacramentali. Cominciamo con il sale e l'acqua esorcizzati e benedenti. Adiatorio nostro, mi nomine dono, Esorcizio te, creatura salis, per Deo vivo, per Deo vero, per Deo santo, per Deo chite per il suo profeta in agua mitiusi, ut sanare etur sterilita sangue, ut efficiaris an exorcizzatum in salute credentium, et esis omnibus umentibus tesanitas animet decorporis, ed effugiate que discedata loco in quas versum fueris, ogni fantasia, ed enequizia verversutia diabolice fraudis, onnisque spiritus imundus, adiuratus per Deo viventurus esti indicare vivos et mortuos, et seculum perigne. Amen. Oremos, in mensa clemencia Tua unipotens eterne Deus, humiliter imploramus, ut an creatura salis, ma minuso generis umani tribuisti, benedicere ete santificare Tua pietate dinieris, ut sit omnibus umentibus allus mentis ete corporis, et equiquit exeot actum en respersum fuerit, cariat oni imunditia, oniqua impugnatione spiritaris nequitiae, per dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tu, qui Te convivite et regna in unitate Spiritus Antideus per omnia saecula saeculorum. Amen. Exorcismus et benedizio acque. Esorcismus et criatura acque, in nomine dei Patris omnipotentis, in nomine Iesu Christi, Filius Domini nostri, et in virtute Spiritus Sancti, ote fias acque esorcizzata, ad effuganda monne potestatem inimici, et ipsum inimicum eradicare, et explantare e valeas cum angelis suis apostaticis, per virtute Ius de Domini nostri Iesu Christi, qui venturus est iudicare vivos et mortuos, et seculum perigne. Amen. Oremos. Deus, qui adesalute umani generis maxima queque sacramenta in aquaro sustancia condidisti, adesto propizius invocazionimus nostris, et elementu ic multimo dis purificazionimus preparatum, virtute Tue benedizionis infunde, ut creatura Tua misteris Tui servies, ad abigendos demones, morbosque pellendos, divine gracies dum at effectum, ut equiquid in domibus, veli logis fidelium, e cundare sperceric, care at ogni munditia liberetura noxa, non illic recidia spiritus pestiles, non aura corrompes, discedan domnes in sile latentici inimici, et esibideste quod aut incolumità di abitatium invide, aut quieti, as perciorui usacque fuggia, ut salubritas, per invocazione, santi Tui nomins espetita, abomnimus it impugnationimus defens, perdonimus nostrum, Iesum Christum, Filium Tu. Vitegu vivite terregnat in unitàt e spiritus santi Deus, per omnia secula seculore. Amin. Comistio sagis, et acque pari per fiat in nomine patris, et fili, e spiritus santi amami. Domnus voviscum, e spiritus santi amami. Aureus. Deus invite virtutis autum, et insuperabilis imperirents, et semper magnificus triumfator, vi adverse dominationis vires retrimis, inimici rugentis e vizia superas, vi hostiles nequizias potentere expugnas, te domine trementes et te supplices deprecamu. Accapetinus, utanc creaturas alis, et acque dignante raspicias, benignus illustres, pietatis tu errores santifices, utubicumque fuereitas pers, per invocazione santi nominis tui, omnis infessassimundi spiritus amigatum, terrorque venenosis serpentis troculpellatum, ete presenci, santi spiritus nobis misericordia tua cuascenti, utubicumque ad esse digneto. Per domino nostro Iesu Cristo, figlio tu, vi te con vivite da regnati in unitate, e ius de spiritus santi Deus, per ogni secula, seculorum. Benedizione dell'odio, esorcismo dell'odio. Adiutorio nostro mi nomine doni, ben sorcizzo te creatura olei, per te o patre monipotente, vi fecit celum et terra, mare, et ogni acquei nei sud, omnis virtus adversarit, omnis exercicus diavoli, et omnis incursus omne fantasma satane radicale, et effugare la bacca creatura olei, ut fia omnibus queo suri sud, salus mentis e le corporis, in nomine dei patris onnipotenti, et Iesu Christi, figlio e ius domini nostri, et spiritus santi paracriti, et in caritate ius de domini nostri, Iesu Christi, viventurus esjudicare vivos et demoru tuos, et seculum perigne, ammi, domine ex audio, orazione mea, dominius vomis, et assis tu, oremus, domine Deus onnipotenti, cui astat esercitus angelorum con tremore, quorum servizium spirituale cognoscitur, dignare resficere, benedicere, et santificare anche creatura molei, quam ex olivano sucque ed uxisti, et ex eu infirmus in unci mandasti, quate no sanitate percetta, timideo vivo et vero grazia sagere, presta quesumus, ut quio coleo, ut in tuo nomine benedicimus, usi fu erita moni languore, a unico infermitate, a que conti sensibisi nemici liberentu, et te conte adversitate separentu, la plasmate tuo, quante prezioso sanguine, fili tui redemisti, ot te dunque alledea l'amorso antivi serpentis, per eunde, Domino nostro Iesu Cristo, figlio tu, qui te convivite, te regnati in unitate, spiritu santi Deus, per ogni a secula, seculorum. Amen. Benedizio, nun mismatum, santi benediti, benedizione della croce di San Benedetto, come è stato chiesto. Adiutorio nostro, mi nomine domini, adesso esorcizzo, le medaglie e le croci di San Benedetto, exorcizzo vost, nomismata, per Deu Patrem Onnipotente, vi fecite celum e terra, mare, et omnia, quei nei sunt, omnis virtus adversari, omnis, exercitus diaboli, et omnis incursus, omne fantasma satane, e radicale defogaria, visse numismatibus, utte fiat omnibus, qui eis giurisunt, salus mentis, ete corporis, in nomine Patris, onnipotentis, ete Iesu Christi, figliei, in nomini nostri, ete spiritu santi, paraditi, ete in carità Deius, de nomini nostri, Iesu Christi, qui venturus esti ubicare, vivos ete mortos, et seculum perigiem, Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater nostre. E de ne nos inducas in tentazione, salvo faco servos tuos, Deus meu, sperante cinta, esto nomis domine turris fortitudinis, a faci, inimici, dominus virtute populo suo David, dominus benedicet e populo sum in pace, mitte nomis domine auxilium de santo, ete desio tuere nos, domine exaudio nasione mea, dominus lovis, esti spiritu, orenus. Deus, onnipotent, bonorum, omio largito, ete suplicest erogamus, ute per intercessione santi benedicti, is sacris, numismatimus, literis, acce caracterimus, ade designatis, tua benedizione min fundas, ut omnes, via, ea, gestaveri, mitagonis operibus, intenti fuerint, sanitate mentis, e de corporis, e de gracia, santificazioni, satque indulgenzi, as novis, moncesas, concequiveream, a unespe diavoli insidia, sette fraudes, per auxilio misericordie tue, e fuge de valea, et in cospetto tuo santo, et immaculatia parea, per dominum, nostrum, Iesum Christum, filium tu, qui te convivite, terregnati in unità, e spiritus acti Deus, per ogni a secula, seculor, oremos, Domine Iesu Christ, qui voluisti prototius mundi, redenzione de virgine nasci, circuncidia, iudeis ere provari, iude osculo trani, vinculus aligari, spinis coronari, clavis perforari, interlatrones crucifigi, lancea vulnerari, et tandem in cruce mori, per anche tua santissima passione, humiliter exor, utonnes diabolicas insidias, et fraudes expella, sabeo, in nome santo tu, mis literis, ac caractereus, et te, a te designatus, devotei vocabere, et teo, ad salutis portu, per luce religièris, vivivis et eregnas, in secula, seculor. Amen. Benedizio Dei, onnipotentis, patris, et filii, et spiritus santi, descendats e supera, ec enus mismata, ac ea, gestantes, et emania, sempre. Amen. Benediciamo adesso, in Cesu. Per intercessione, beati, Michelis Arcangeli, stantis ad extis, altaris in Cesu, et ogni elettor suorum, in Cesu, mistu dignetur, dominus benedicere, et in odore, suavitatis acipere, per Christum, dominu nostru. Amen. E concludiamo con la benedizione dei Ceni. Cari figlioni, questo appuntamento con i sacramentali è molto importante, sono presidi, l'acqua, il sale, l'olio, l'incenso, la croce di San Benedetto, e il cero, o la candela, sono presidi, contro le forze del male. A diudorio nostro, mi nomine Domini, Fesce, San Benedetto, Dominus, Obiscus, Fesce, Oregus, Domine, Iesu Cristo, Fili dei Dini, Bene, candelas istas supplicazioni bus nostri, infundeis Domine, per virtute sante Crucis, benedizione celeste, qui ea, sa, de rebellenda stene, brasumano generi tribuisti, taleque benedizione, signamulo sante Crucis, a cipia, otequibus cunque logis accense, sive posite fuerint, discedante principe se nevram, et contremiscant, et fuggiante pavidi, tumomnimus ministris suis, ababitazionimus illis, nec presumant amplius inquietare, autemolestare servientes, tibion impotenti Deo, che vivis et regnas in secula, seculorum. Amen. Sì, e prima della benedizione finale, suggetti di pietà, ecco, vorrei concludere proprio con questa parola, della orazione sui cieli, fuggano via, retrocedano gli spiriti malini, sì, figlioli cari, abbiate non presente, i sacramentali fanno retrocedere le scatenate potenze demoniache, in casa abbiate abbondanza di acqua, sale, odio, incenso, cieli, esorcizzati e benedetti, oltre che la croce di San Benedetto, e gli oggetti tutti di pietà, a partire dal corone del rosario, che adesso benedico. Per intercessione, beate Virginis Marie, Regine e Sagratissimi Rosari, e Sant'Iosef, ed beati Michaelis Arcangeli, ed beatorum apostolorum Petri et Paoli, ed beati Ranis Battiste, benedicato, nipote Zeus, pater et filius, e figli di San Benedetto. E' così, esorcizzati e benedetti, adesso vi auguro buona cena, ci vediamo fra un po'.